Oggi mi vedete qui perché a grande richiesta le vizzettine l'hanno chiesto Quindi io vi dico solo un piccolo spoiler Vi vizierò Io sono anche venuto qua per visitare te Dov'è la telecamera? Dove sta andando? Dove vai? Dove va? Baby, due minuti e sono da te Ora sono da Barbarina Vizio anche te, scusa, vengo qua e non ti vizio Per forza Non ho capito niente Devo viziare pure te Cosa è successo? Vizio pure te Vizio anche te Vizio anche me? Eh certo In che senso? Eh che ti vizio Ti faccio... Eh scusa Perché lui... Ah perché lui vizia le sue... Ah stai viziando anche me che ti sei messo in mutande È certo Fantastico E venire qui spesso? Ma certo Ma certo Vieni qui a viziarmi un po'? Eh certo No ma io sono pazza di lui Un po' di sana viziatina o a bene a tutti? Sono un po' viziatina pure io Mamma mia Perché Motore Azione Ehi boccongino Io sono disposto a tutto per arrivare Dimmi cosa vuoi Mamma mia Eh? Mamma sutra do Brasil 1, 2, 3 Mamma sutra do Brasil 1, 2, 3 Mamma sutra do Brasil Brasil, Brasil, Brasil